buon pomeriggio a tutte e a tutti io sono Emanuele Micheli con me vedete già le nostre due redattrici di oggi ciao Katrin ciao a tutti e ciao Ivana ciao a tutti buonasera e siamo ci sono ciao Mirella e anche Mirella tranquilla siamo partiti ora con i saluti ai partecipanti che stanno arrivando quindi il numero sta salendo Mirella ti do anche la possibilità di attivare la tua camera quindi ora puoi condividere anche il video quindi ormai ci sono tanti docenti eccoci ti vediamo un po' trafellata ma ci sono ti vediamo ti vediamo e i docenti stanno già scrivendo perché questo è l'ultimo appuntamento di una serie di incontri che abbiamo fatto in questo percorso sulla sostenibilità per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria quindi ci stanno arrivando tutti i saluti per chi non fosse vedo docenti che ormai ci seguono tutte le settimane ma chi fosse al primo incontro vi ricordo che potete scriverci all'interno della chat dove potete scegliere chi legge il vostro messaggio quindi potete scrivere solo a noi o a tutti i partecipanti e poi c'è invece uno strumento che si chiama domande e risposte e li potete scrivere delle domande e le leggo sostanzialmente solo io e vi rispondo solitamente si usa se magari dovete farci domande sulla certificazione sulla frequenza sui questionari tutti i certificati tutte le cose un po' più tecniche che magari uno utilizza andando a fare la domanda direttamente a noi organizzatori prima di passare e presentarvi le relatrici di oggi vado a condividere lo schermo così ho il le solite slide vi ricordo che questo è un percorso promosso e ideato da roteri per la sostenibilità con la collaborazione di scuole robotica io faccio parte sia di roteri per sostenibilità che di scuole robotica e di redoc e come dicevamo questo è l'ultimo appuntamento del corso primi passi verso la sostenibilità iscritti siete tantissimi poi sappiamo che vi guardate molto spesso la registrazione perché anche questo incontro viene registrato ricordo che avrete la certificazione del singolo del singolo incontro come attestazione di partecipazione che non ha valore per il ministero dell'istruzione al singolo incontro se invece volete la certificazione di tutto il percorso dovete iscrivervi all'interno della piattaforma di learning di scuola di robotica potete farlo anche adesso nel caso rimaneste incuriosite e incuriositi e avrete poi tutto il tempo di andare a fare il questionario che pubblicheremo lunedì 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 anche se per cinque minuti è stato pubblicato in anteprima troppo veloci troppo veloci e quindi ci siamo vi ricordiamo che roteri per la comunità per roteri per la sostenibilità è una community e quindi alla fine dell'incontro vi ricorderemo come partecipare alla community e alla call to action lascio la parola a Mirella per poi lasciare lo spazio alle nostre relatrici di oggi grazie grazie Emanuele buonasera a tutte e a tutti allora siamo arrivati alla fine di un percorso che per me che non ho mai lavorato con la scuola dell'infanzia e la primaria è stato veramente entusiasmante perché è pieno di stimoli di input o altro che veramente fa capire come la scuola veramente militante che è quella che lavora quotidianamente con i bambini e con i ragazzi sia veramente sul pezzo allora oggi diamo la parola a Katrin Roblin e Ivana Delena che sono di Geomag Education quindi che si curano di quella parte di Geomag in cui c'è l'attenzione proprio all'educazione quindi si ideano voi molti li conoscete già kit o set che servono per dall'infanzia alla primaria per esercitarsi con la creatività con la geometria con le STEM e chi più ne ha più ne metta a questo punto io ringrazio ancora Katrin e Ivana che già dall'anno scorso ci hanno accompagnato diciamo in questo in questo percorso a voi la parola ciao buonasera a tutti e tutte siamo io e Ivana siamo molto contenti di essere qui con voi di nuovo e sappiamo che siete tutti coinvolti in progetti con i vostri allunni che promuovano la sostenibilità è naturalmente fondamentale che gli adulti di domani così come noi di oggi siano totalmente consapevole dei problemi che il nostro pianeta sta affrontando e che siano preparati a poveri rimedio ove possibile prima di parlare proprio dei nostri prodotti progetti vorremmo iniziare con una breve introduzione sulla sostenibilità vista in ottica industriale come esempio di come ogni settore deve impegnarsi dall'investire nel futuro voi con le future generazioni nelle scuole e noi con ciò che produciamo ogni settore adesso secondo noi è un po' una responsabilità dove si trova a promuovere questa cosa da noi la sostenibilità ormai è entrata a pieno diritto come valore fondamentale praticamente dopo la stesura nel 2015 dell'agenda 2030 dell'ONU con i suoi 17 goal di sostenibilità il 2018 è stato certamente un anno di svolta nell'attenzione ai temi di sostenibilità con il Friday Day for Future guidato da Greta Thunberg che fece aprire proprio gli occhi di tutto il mondo sui danni che stiamo recando poi c'è stato il COP24 e poi ovviamente il report anche della WWF che ci hanno spiegato la situazione dei mari con la plastica allora ovviamente noi produciamo giocattoli con la plastica per cui i primi passi per noi era di sostituire le tradizionali plastiche però in modo che garantissero comunque a parità di performance tecniche estetiche una forte riduzione di impatto sull'ambiente questo siamo riusciti a fare una volta trovata la plastica reciclata giusta con non poche difficoltà e abbiamo convertito il nostro principale linea di prodotto cioè le famose barrette magnetiche e pannelli e abbiamo convertito tutto in plastica al 100% riciclata e poi abbiamo esteso il progetto alle altre piattaforme e non solo anche a tutte le scatole, l'imballaggio quindi questo è un po' il quadro che diciamo quello che stiamo facendo noi in più ovviamente io e Ivano facendo parte di Geomag Education lavoriamo anche portiamo anche diciamo i nostri pilastri di importanza nelle scuole a Geomag Education siamo convinti che imparare giocando ha un valore enorme nello sviluppo dei bambini e ragazzi i nostri prodotti nascono come giocatoli ma hanno tutti delle caratteristiche innate che si prestano anche per un ambiente scolastico in breve abbiamo preso le nostre piattaforme e le abbiamo rivisitate in chiave Education il progetto nasce con le nostre barrette magnetiche ma ora include anche altre piattaforme in particolare Magic Cubic, questi cubi di cui parliamo oggi insieme alla nostra linea Classic abbiamo privilegiato oggi queste due piattaforme nel webinar in quanto fanno parte dei premi per Rotary per la sostenibilità una cosa su tutto quello che facciamo è vorrei parlare del magnetismo che questo è l'ingrediente forte perché è molto divertente stimola la curiosità in tutta l'età ed è molto inclusivo come gioco nei laboratori che facciamo tutti i ragazzi partecipano volentieri perché non ci sono barriere nel poter costruire con il magnetismo un'altra cosa che stimola è l'intuizione tu non vedi le forze magnetiche però le senti e per i piccoli è una sorta di magia che vogliono esplorare e conoscere quindi sia le barrette che i cubi magnetici portano i ragazzi a sperimentare e creare con questi elementi si entra nel mondo dell'apprendimento STEM l'acronimo inglese per Science, Technology, Engineering and Maths questo è un approccio interdisciplinare dove gli studenti applicano la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica in contesti che rappresentano esperienze nel mondo reale cioè fuori dalla classe, cioè come si mette, come si usa nella vita reale ecco io vi faccio vedere adesso i Magic Cube, che sono i cubi di cui sta parlando Catherine sono in plastica 100% reciclata la cosa fantastica di questo prodotto è che ogni cubo si attacca su tutti e sei lati come potete vedere e quindi per i bambini è molto semplice costruire già dai primi anni di età sia in 2D che in 2D perché basta avvicinarli e si posizionano molto facilmente come potete vedere in questo modo stimoliamo tantissimo la fantasia dei bambini che sono comunque portati a costruire sia cose astrate che cose concrete come potete vedere come per esempio degli animali, questa è una paperella questo è un cavallo, un cane, a secondo di quello che si vuole vedere ma anche in realtà delle costruzioni anche più grandi o delle costruzioni che sono un po' architettoniche tipo questo castello che vediamo se riesco a controllarvi bene ho un castello con le piottine estrelle e si può fare più alto, più basso, eccetera quindi si può salire in altezza, si può allargare, si può costruire 2D, 3D, eccetera qualsiasi attività di costruzione inoltre sapete che aiuta tantissimo a migliorare le capacità motore, la coordinazione, quindi il collegamento mente-mano e inoltre tutti i giochi di costruzione hanno un ruolo importantissimo nello sviluppo cognitivo sociale Grazie Ivana, molto 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 interessante ma ecco, i bambini come reagiscono di fronte a questi cubi? perché spesso voi mi avete raccontato che li fanno cadere, li lanciano che cosa significa questo? Il bambino sta studiando in questi casi il movimento di un oggetto attraverso l'aria e questo è il primo passo nel sviluppo di come lanciare, prendere, tirare calci e in seguito a questo porterà per esempio alla guida di una macchina o al gioco del tennis sono proprio i primi passi Un'altra cosa che mi viene... Ivana ci ha fatto vedere una bella torre che è stata costruita perché poi le distruggono? Cioè loro creano però poi non rimane quello che hanno fatto Il bambino sta cominciando a capire come certe cose si connettono e come altre si disfano e comprende lo sforzo, la forza magnetica, la viscosità mentre collega gli oggetti per tutti i bambini piccoli effettivamente colpire, sbattere, spingere, tirare sono tutti modi tipici per esplorare e imparare non sono assolutamente atti di violenza per dire E quindi è un mettersi diciamo in gioco veramente cercando di sperimentare anche loro che cosa possono fare Esatto Ma ecco chiedo un po' a Ivana ma oltre che paparelle, cavallo che cos'altro costruiscono con questi cubi? Ma in realtà qualsiasi cosa cioè è capitato veramente di vedere i bambini costruire non so la propria casa, non so una città, una giostra il proprio animale, il proprio gatto anche delle persone a volte no? Che basta veramente poco mettere un paio di gambe, di braccia eccetera per riuscire a costruire anche una persona dipende tantissimo dalla fantasia e dalla manualità del bambino ma le possibilità sono infinite Ecco ma tu dici il bambino o i bambini insieme che cosa possono fare? Cioè avendo questi cubi in mano come pensano di costruire? Cioè si mettono d'accordo su che cosa fare oppure è meglio lasciarli un po' alla loro creatività e alla loro spontaneità? Ma in realtà noi tendiamo sempre a non dare delle vere e proprie istruzioni nel senso noi solitamente siamo per il gioco libero quindi diamo dei pezzi e il bambino si deve sentire libero di costruire, di sperimentare, di viaggiare un po' insomma sia con la fantasia che con le mani poi perché poi si traduce in un'azione concreta ed è proprio quello che vogliamo quindi non dare delle vere e proprie indicazioni ma lasciare il bambino libero di fare quello che vuole Sì, ti ringrazio Ok Benissimo Allora abbiamo visto ecco che i blocchi di costruzione comunque insegnano ai bambini tante cose la gravità, l'equilibrio costruire necessita un'attenzione particolare alle dimensioni, la forma, il peso e man mano che il bambino scopre come costruire le sue costruzioni diventano sempre più complesse o quello che faceva vedere Ivana il gioco con i cubi aumenta la creatività incoraggi i bambini piccoli ad abbinare, contare, ordinare seguire le sequenze eccetera è ovvio tutti i giochi di costruzione promuovono miglior consapevolezza dello spazio intorno a loro una delle cose di cui appunto è interessante è come lavorare in gruppo devono imparare a questo punto a condividere e anche a fare turni quindi anche questi giochi insomma in un gruppo di bambini devono collaborare ecco adesso a parte il gioco libero appunto che vi abbiamo fatto vedere adesso facciamo vedere una scatola di clip che abbiamo per lo storytelling e questa è un'attività molto simpatica prenderemo la fiaba dei tre porcellini il nostro famoso lupo e i due porcellini qua la storia viene raccontata con degli episodi ben distinti questi episodi come capitoli vengono poi raffigurati dai ragazzi usando i magic clip i magic cube e le clip il bello è che si può costruire in 3D a questo punto quindi si può leggere la storiella che c'è nel libretto e i bambini costruiscono particolare attenzione viene data alle preposizioni agli aggettivi agli avverbi e dal racconto e dai personaggi ci sono tanti spunti per una bella conversazione con e tra i ragazzi tipo non so hai paura del lupo dove ti saresti nascosto quindi c'è il bambino questo cambieresti la fine perché questo è interessante i bambini possono parlare delle emozioni facciamo vedere ad esempio ci sono diversi lupi cioè lo stesso lupo con diverse facce eccetera quindi è un bello spunto qua è una cosa anche molto carina che con tutte queste clip si possono creare versioni alternativi oppure una fine diversa ed è molto divertente noi stessi abbiamo infatti inventato storie completamente diverse in questa occasione tipo oggi la narrazione è un ottimo strumento per trasmettere idee complesse come la sostenibilità abbiamo inventato una fiaba che ha incluso e illustrato i 17 goal delle Nazioni Unite dell'agenda 2030 per dire sì infatti intervengo proprio perché abbiamo presentato questa storia dei 17 goal in un webinar precedente quando pubblicheremo la registrazione di questo webinar vi metterò il link così potrete anche accedere se non l'avete già fatto anche a questa storia grazie adesso esamineremo un'altra attività divertente che si può svolgere utilizzando i Magic Cube e le clip con le lettere anche in questo caso il gioco e l'apprendimento vanno a pari passo ecco questi sono le clip prima di tutto è imparare l'alfabeto riconoscere le lettere ci sono appunto due colori blu per le consonanti e rosso per le vocali possono giocare diversi giochi con le lettere ogni bambino prende ad esempio una lettera la lega a un cubo alzando poi ecco questo è proprio mettendoli in ordine poi non so scegliendo una lettera a caso e poi fa vedere agli altri che lo devono leggere ho visto nel chat sono solo minuscoli non maiuscoli in questo set un'altra idea si possono costruire due torri e attaccare su una tutte le consonanti che si legge una per una così a caso così è un'occasione per individuare e sull'altro torre i vocali puoi impaginare l'alfabeto con alcune lettere mancanti e i bambini devono trovare le lettere mancanti e metterle a posto giusto ecco per quanto riguarda le loro prime lettere ci sono una serie di clip di immagini che sono utili ecco questo è per fare ecco questo sì si può fare dei giri dei giochi esatto di seguire questi serpenti di lettere ok esatto diversi giochi insomma così poi appunto questi clip con le immagini abbiamo ad esempio il cane quindi fai vedere l'immagine la clip e loro devono cercare poi le lettere per costruire la parola ok oppure il sole quindi hanno il sole ok quindi e si può fare viceversa si potrebbe anche preparare già la parola cane loro i bambini poi lo devono leggere e poi andare a cercare l'immagine giusto ok ok poi ci sono ovviamente una serie di suggerimenti nel libretto nostro che abbiamo e appunto lì tanti esercizi quello più difficile proprio sul davanti c'è questo scarabeo è un gioco si fa uno per uno lì sono le parole in inglese però la stessa cosa che possono anche fare questo scarabeo in 3D che è abbastanza divertente quindi li accompagna questo set ok poi abbiamo un set simile però per la matematica Katrin Katrin scusami c'è una domanda su maiuscolo da Noemi maiuscolo minuscolo indifferente per un primo apprendimento o sarebbe meglio partire dal maiuscolo che considerazione avete fatto su questo allora ecco questo set in realtà come vedete dal libretto era sviluppato da un gruppo di insegnanti inglesi all'inizio per cui infatti lì cominciano con i minuscoli per quello che questa cosa è nata così quindi non ci sono maiuscoli in questo set ed è visto proprio come allora quello che ci sono nei set che abbiamo non ci sono le lettere accentate che sono in inglese mi sembra in questo set qua che c'è un set un altro set nostro dove ci sono anche però non è quello per le scuole questo in realtà va bene per italiano ma va meglio quasi per inglese per dire anche le prime paroline le parole previste per questo set sono quello consonante vocale consonanti sono le prime parole per i bambini in Inghilterra quindi tipo gatto cat per cui sono tutte parole facili quindi andrebbe bene anche come primo approccio alla lingua inglese in realtà perché sono tutte paroline non sono assolutamente cose complesse per cui anche nel contesto di un gioco abbastanza divertente scusa viene da farmi da fare una domanda non a Catrine ma a chi ci sta ascoltando da questa domanda maiuscolo o minuscolo sarebbe meglio partire dal maiuscolo mi viene veramente la curiosità ma si comincia dal minuscolo o dal maiuscolo per lo più se magari qualcuno ci vuole rispondere perché io non non mi ricordo completamente però io c'ho ancora un mio quaderno della prima elementare in cui oltre che le aste e le cose però c'era il minuscolo che cosa è meglio per i bambini Noemi ci dice all'infanzia maiuscolo e ce lo scrive maiuscolo e ce lo scrive maiuscolo intanto faccio un'informazione anche per imparare a scrivere il nome dice Noemi intanto informazione perché vedo che qualcuno scrive le sue sì ci sono sì ci sono abbastanza ci sono tante lettere in questo set tra l'altro ah sì perché c'è la domanda ai Paola se ci sono abbastanza sì no è abbastanza ricco sì sì se non mi ricordo il numero esatto ma sono tanti per cui sono tanti di tutte le lettere sì cioè sì cioè ovviamente nella lingua italiana sono tantissimi vocali però certamente ce ne sono abbastanza qua non sono tipo due E cioè ce ne sono tanti sì per cui va bene poi mi viene in mente mi permetto Catherine che uno potrebbe anche giocare sul con bambini più grandi alla primaria sul cambiare le parole inventando sgatto invece che no esatto cioè inventare degli animali strani con nomi strani in realtà ho visto che c'è Pallon dell'infanzia è previsto siccome è previsto in realtà per gli elementari direi però certamente in Inghilterra cominciano la scuola a cinque anni quindi e anche c'è la prescuola a quattro però ovviamente il percorso scolastico questo sarebbe cinque e sei e quindi insomma è il primo approccio scolastico alle lettere non arrivano altre domande ok perfetto allora continuiamo con la matematica a questo punto cioè i numeri più che la matematica qua un po' la stessa idea perché e questo siete per capire i numeri ma anche i simboli matematici e anche i puntini abbiamo anche queste questa è la prima parte qua interessante perché ovviamente oltre a riconoscere i numeri uno due tre proprio come simboli grafici ma anche l'idea astratto del numero tipo tre quindi tre potrebbe essere tre cubi può essere tre puntini o il numero tre cioè capire che è tutto tre e questo non è ovvio in realtà per un bambino per cui questo è un bel modo per giocare anche loro stessi possono mischiare fare dei giochi tra di loro uno tira fuori quattro puntini e le varie azioni dove vanno a cercare i compagni poi con questi ci sono ovviamente i simboli matematici quindi si può anche parlare a questo punto due puntini uguale a due il numero due quindi anche lì si impara anche a sprimersi queste cose poi si può a questo punto mettere in ordine esercitarsi andare in ordine crescente o decrescente con i cubi i puntini i numeri anche come con le lettere si può riempire con le clip mancante per completare sequenze ok ecco questi altri simboli questo ovviamente è più maggior minore ok e quindi si impara a usare questi simboli in diversi modi e poi arrivi ovviamente alle prime operazione ok quindi questo si comincia poi a parlare in questa maniera qua vediamo se Ivana ecco ottimo ho la superata Ivana ecco ecco perfetto cioè quello che è simpatica quello che continua a far vedere Ivana in questi casi che ha messo i puntini anziché sempre il numero tre e quindi mischiando così che non è così ovvio cioè per loro è giocoso però devi avere anche una testa abbastanza elastica a questo punto e quindi man mano cominciano a giocare con questa cosa le clip tra l'altro loro non sono magnetiche ma sono hanno dentro una gomma ferie per cui si attaccano al cubi che sono magnetiche quindi queste clip non si attaccano al frigorifero per dire intanto arrivano Raffaella scrive validissimo per i bambini in difficoltà di apprendimento e Daniela ho notato che i cubi sono importanti anche per rispettare una distanza tra lettere e tra numeri cosa che per i bambini è molto difficile questo è vero e Cecilia scrive per l'infanzia niente vi è di creare i cartellini noi per le varie lettere o numeri cercare poi fogli calamitati esistono da incollare nella parte posteriore da mettere così nei cubi noi l'abbiamo fatto per una lavagna magnetica per noi insegnanti di scuola di infanzia niente impossibile ah certo è vero è vero io credo che proprio partendo da questo da questo strumento e da queste cose poi la fantasia e la creatività degli insegnanti e dei bambini troverà tantissime strade per poter lavorare con modalità anche anche nuove sì sì assolutamente sì 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 questo noi nel libretto che faceva vedere Ivana abbiamo una serie appunto di suggerimenti perché esatto sono poi dopo parti e che poi dopo vengono fuori un sacco di idee e alla fine sì appunto le sequenze eccetera e alla fine è un altro tipo di scarabeo giocando con i numeri di operazioni in in 3D che è abbastanza divertente e non è tanto facile perché per i ragazzi di di leggere da sotto sopra sotto e non è così ovvio perché però è divertente un altro modo di di giocare apprendere a questo punto comunque vogliamo cambiare piattaforma e andare a guardare il classico quello che noi chiamiamo il classic cioè le nostre barrette magnetiche e sfere anche qua per chi non lo sa già sono le barrette che sono magnetiche e non le sfere ok questo per livello di sicurezza quindi se dovesse capitare speriamo di non che una ragazza un ragazzo dovesse ingoiare una sfera non succede niente cioè sono sicuri e niente insomma non è non è in pericolo di vita le barrette hanno i magneti e sono di una lunghezza che non possono passare per la gola per cui insomma diciamo che come ci sono delle norme e ovviamente questi giochi che chi non lo sa ovviamente sono molto specifiche quello che dobbiamo seguire allora qua come ho detto prima abbiamo convertito tutta questa linea in plastica riciclata quindi adesso questi lab geomag lab contengono un tesoro di attività che traducono le esperienze in classe in applicazione di vita reale adesso lo dimostreremo questa è un'attività che vabbè adesso spiego i set tutti i set nostri di classic è uno strumento efficace per unire la classe e incoraggiare un approccio pratico e creativo all'apprendimento ovviamente geomag si presta a visualizzare tante geometrie dalle forme basi ai solidi platonici la simmetria eccetera ma oggi vorremmo mostrarvi una delle nostre attività di laboratorio STEM come esempio di lavoro di squadra per il problem solving e comunicazione allora dopo quello che bisogna fare è dividere la classe in due gruppi i ragazzi iniziano a lavorare individualmente ognuno di loro costruisce una forma geometrica in 2D quindi per dire Ivana è già avanti quindi si comincia possono fare un triangolo un quadrato un pentagono un esagono ok di base ok così questo è il suo prima la prima cosa una volta che viene detto loro di iniziare poi a costruire verso l'alto usando la loro creatività immaginazione per costruire un edificio un palazzo e questo li costringe ad esplorare il magnetismo e la fisica delle forze una volta che tutti hanno un edificio viene nominato un direttore dei lavori per ogni gruppo e così cominciano a pianificare e costruire la città con le loro costruzioni che hanno fatto adesso lì Ivana ha qualche cosiddetto palazzo già pronta ecco qua sta aggiungendo qua quello che noi chiamiamo i panelli i quadrati sono molto utili perché stabilizzano mentre la forma invece i triangoli ovviamente sono di abbellimento perché il triangolo per sé è molto stabile ecco poi avendo ognuno creato il suo palazzo si decide come unirli e questo diventa un'attività molto interessante devono andare d'accordo collaborare lavorare insieme alla città viene dato un nome e poi la si presenta all'altro gruppo spiegando cose che hanno fatto così si parte dalla geometria semplice in 2D all'ingegneria all'architettura e tutto attraverso il divertimento adesso si collegano si possono fare strade ponti tra un palazzo e l'altro e nella nostra esperienza questa è un'attività pazzesca perché vengono fuori città simili alle nostre magari con i palazzi che noi riconosciamo oppure gruppi che fanno delle cose spaziali proprio inventati quasi lunari incredibile per cui è proprio un gioco aperto se vuoi con qualche indicazione però dove la fantasia è quello che funziona e poi si mettono insieme appunto queste cose di problem solving i palazzi loro noi siamo stati qua molto conservatori con le scelte i ragazzi tendono a fare delle cose che a volte ma la pena stanno su perché sono molto avventurosi e questo è anche bello perché capiscono a che punto può crollare che non sta su tutto e quindi anche questo ha il suo perché questo è un esempio di lavoro di gruppo che si può svolgere ma le possibilità ovviamente sono infinite e troverete anche altri suggerimenti idee sul libretto contenuto all'interno del set laboratorio ecco questo sarebbe il lavoro compiuto insomma la città la città ecco questa è l'attività che propongiamo cioè per stasera per il lab STEM ecco ma indubbiamente i ragazzi i bambini possono anche intervenire con altre cose per rendere diciamo con qualche disegno magari dell'albero piuttosto che di altro per poter rendere la città dico più sostenibile quindi pensare un po' anche anche al verde diciamo non sono costruzioni fine a se stesso ma sono punti di partenza con i quali si può integrare diciamo anche quella anche tante sì sì abbiamo collaborato spessissimo con una scuola che ha un interessante programma di robotica anche di coding soprattutto e anche per i bambini piccoli con i b-bot ad esempio ha fatto dei percorsi facendo una situazione del genere con i nostri prodotti e poi usando altre altre cose per fare coding per passare per la città per dire sì sì le è molto interessante questa cosa di assimilare diverse fonti di sperazione a questo punto sì sono d'accordo e poi mi viene in mente che abbiamo fatto non in questo magari non in questo percorso ma nell'altro quello dedicato ai più grandi con Salomone e Mirella la parte sulle città sostenibili sul riprogettare le città quindi il proprio quartiere quindi dare creatività ai bambini per dire quello che prima sembrava un radar può sembrare un mulino possiamo veramente lavorare di creatività quindi molto molto grazie ecco grazie Ivana ti sei divertita? Allora vediamo se c'è qualche qualche domanda qualche curiosità per approfondire tanto controllo anche dentro all'altro strumento sì per esempio nell'altro strumento di domande e risposte ho una domanda che vedo io dedicata al coding perché ovviamente ci viene chiesto il fatto di commissionare materiali diversi come è molto potente la valutazione è quella quindi costruire i ponti gli archi dove passare sotto può essere veramente interessante ad esempio con i laboratori c'è tutta una parte ovviamente con la triangolazione perché ovviamente col magic si presta tantissimo a tutti i lavori con il triangolo quindi appunto la costruzione dei ponti è una parte molto interessante perché poi ovviamente sono le spinte eccetera sono argomenti magari per la scuola primaria che sembrano complicate che lo sono a livello di fisica però ho introdotto anche quando sono piccoli quasi di con intuizione riescono a affrontare queste cose che è molto bello come primo approccio senza andare a spiegare tutta la fisica dietro ma proprio che lo sentono ho fatto ultimamente delle prove dei test con dei ragazzi su delle carte e un collega mi ha chiesto ah però non c'è la spiegazione se la mettono se mettono la barretta dalla parte sbagliata no non serve perché automaticamente lo rigirano se non si attacca cioè è bellissimo vederli lo girano ed è molto carina questa cosa per cui questo sperimentare con il magnetismo costruire in questo modo è molto efficace e quindi anche la geometria che viene spiegata in classe però sperimentandolo è proprio bello i ponti sì i ponti sono secondo me una delle cose più belle con Geomag da fare difficile no ma significa proprio avvicinare i bambini a capire prima in maniera intuitiva e poi il passaggio diciamo per spiegarselo più scientificamente viene naturalmente in un secondo tempo ma già hanno acquisito questo questo aspetto una cosa che aggiungerei non per essere polemica quello che mi piace anche è che tutto questo alla scuola primaria sono le le femmine e i maschi che fanno tutti cose insieme ehm sappiamo bene che dopo l'età di dieci undici dodici anni l'interesse per le materie scientifiche cala notevolmente nelle femmine e questo la spiegazione è semplicemente culturale perché non c'è nessun motivo ehm per questo oltre quello quindi anche offrire questa cosa che costruiscono un ponte e poi lo dici che questo è quello che fa l'ingegnere l'architetto cioè quel lavoro non diventa da maschio cioè diventa per tutti e quando poi ehm tu offri questa cosa ai bambini piccoli per loro è normale ed è importante per tutti noi di creare una normalità in questa cosa per cui da piccoli offrire cioè dire questo chi fa i ponti non è lo fanno tutti lo fanno anche i ragazzi a scuola con diverse cioè tipo un gioco di costruzione questo è molto bello ed è un bel modo per diciamo che permettere a tutti sia maschi che bambini fare delle scelte delle cose che loro amano fare ma non perché culturalmente giusto ma ricordo a Emanuele un webinar che abbiamo fatto qualche giorno fa proprio sulle donne e le STEM come proprio a volte è la eterogeneità del gruppo la differenza di persone all'interno di un gruppo che vale molto di più delle competenze di ciascuno proprio perché sono punti di vista diversi e quindi una bambina o una ragazzina avrà un approccio diverso magari sicuramente più ordinato rispetto il comportamento di uno di un maschio che però serve serve anche al maschio per capire come certe attenzioni sono appunto necessarie e questo se si comincia veramente da quando si è piccoli come dici tu è un fatto proprio culturale io dico tutti possiamo fare tutto si tratta naturalmente non tanto di avere l'inclinazione ma proprio di avere gli strumenti per poterle fare in realtà una cosa interessante perché STEM che diciamo che è l'acronimo più conosciuto e adesso è stato allargato a STEAM che aggiungono arte e questo è stato a Rhode Island che hanno l'istituto lì che ha diciamo iniettato la creatività nelle materie scientifiche che sono molto creativi che tutti pensano che sia una cosa scientifica che sia soltanto una cosa cioè che è scritto in pietra invece non è così che praticamente è spesso sono materie creative anche e ovviamente anche la ricerca ci vuole mente creativi e quindi è molto interessante questa cosa appunto come dici tu nel creare questo questi gruppi di lavoro questo lavorare insieme collaborazione comunicazione che fanno parte di quello che intendono quando parlano di STEM perché è interdisciplinare quindi insomma per forza si parla di questo ma c'è anche un altro appunto di attenzione che STEM non significa ripudiare tutto quello che viene dalle materie umanistiche perché indubbiamente anche questo pensiamo per i bambini non c'è la filosofia però le parole hanno veramente un significato e servono anche per le STEM ma infatti una delle cose più importante con diciamo un approccio STEM quando si fa vedere il modo di trasmettere perché è un apprendimento STEM questo la comunicazione una delle cose più importanti cioè come si parla si spiega e questo ovviamente richiede una capacità linguistica proprio della propria lingua di modo di esprimersi e questo ovviamente torni poi alle materie umanistiche a questo punto quindi è assolutamente necessario proprio un approccio completo ecco infatti prego Miranda vai tu vai tu io ho già parlato troppo vai tu no no io riporto dalla chat esatto che è una nostra affezionata docente che partecipa a tutti gli incontri ci scrive è importante da parte di noi docenti stimolare la curiosità dei bambini dobbiamo secondo me essere noi per primi ad essere curiosi coraggiosi e privi di stereotipi e questo è molto molto importante perché questa differenzazione è nella mente della società non è non è nel nostro corpo è purtroppo un'idea di società malata che è stata costruita negli ultimi secoli e non solo anni e bisogna proprio iniziare da bambini perché ora un po' meno ma una volta c'erano i giochi per i bambini e i giochi per le bambine il piccolo chimico perché chissà perché era il piccolo chimico piuttosto che invece le pentoline e altro per le bambine e questo diciamo in un certo modo viene superato ora però si fa ancora fatica perché quando si entra in un negozio di giocattoli è un bambino o una bambina come noi leggiamo qualunque libro sia se siamo donne o maschi così anche i giochi devono essere naturalmente per tutti non devono avere questo stereotipo più adatto per uno più adatto per l'altro no e questo è importante sin da quando sono piccoli infatti questi progetti che promuovete sulla sostenibilità e progetti in classe che poi tutto un po' rientra in questo tipo di collaborazione progetti insieme lavorare insieme secondo me anche questo crea molto equilibrio anche in classe a livello di maschi e femmine con tutte le mansioni condivisione e divisione dei lavori ho visto anche che mi hai condiviso quei lavori dell'anno scorso meravigliosi delle classi e questo fa parte dello stesso messaggio insomma di di collaborare su la sostenibilità ovviamente un tema super importante da affrontare parlare di sostenibilità oggi a 360 gradi coinvolge praticamente tutte le discipline tutti i comportamenti e tutti gli atteggiamenti perché non è riferito soltanto all'ambiente ma proprio anche al modo nostro di vivere in questo pianeta nella nostra famiglia nella nostra classe nella nostra società e quindi già partendo da piccoli gesti che si possono fare significa poi comportarsi anche bene quando si si cresce tu poco fa dicevi gli adulti di domani io sottolineo anche il fatto Emanuele lo sa quello che io dico che i nostri bambini sono già cittadini di oggi perché nel momento in cui si relazionano consumano eccetera esercitano la loro cittadinanza da piccoli cittadini infatti abbiamo detto piccoli cittadini crescono nell'altro webinar che abbiamo fatto nell'altro corso che abbiamo fatto Emanuele se tu vuoi magari approfondire quel rapporto proprio del del coding proprio che secondo me è anche una cosa molto molto utile interessante anche al livello di scuola dell'infanzia o le prime classi della primaria perché che cos'è questo coding è assolutamente interessante perché il coding viene vissuto molto spesso come qualcosa di non materiale solamente digitale e la possibilità invece di avere degli oggetti come Katrin ha nominato BeBot BlueBot che è molto famoso anche in Italia che è un robottino inglese che ha avuto molto successo e va bene per la scuola dell'infanzia e per i primi anni della primaria dare fisicità a quello che viene chiamata proprio tangible coding quindi il coding tangibile e commissionarlo con elementi diversi perché il rischio di quando si fa coding è di rimanere nel digitale rimanere che assolutamente è anche giusto farlo però estremizzarlo troppo rimanere solo in un ambiente virtuale fa sì che i bambini ovviamente le bambine aumentino le loro competenze sugli ambienti digitali e virtuali ma rischino come ormai è un dato di fatto che credo tutti i docenti e le docenti che partecipano potrebbero confermarci se chiediamo anche a loro la loro opinione tutta la parte di motricità fine dei bambini viene lentamente peggiorata viene a mancare e invece commissionare con degli oggetti come abbiamo visto quelli fatti vedere da Ivana e da Katrin ci consente di riportare il coding non in una nicchia del digitale del virtuale ma in un mondo reale perché poi quando poi si va avanti nel coding e nella programmazione si programmano oggetti reali che hanno una conseguenza nella realtà l'approcciamo tramite gioco quando abbiamo 5, 6, 7 anni ma poi quando ne abbiamo 20 diventiamo studenti universitari informatici ingegneri queste persone queste bambine e questi bambini dovranno sapere che ci sono delle conseguenze e far sì che continuino a imparare con le mani e non solo pensando che sia tutto in uno schermo è molto molto importante quindi invito le docenti e i docenti partecipanti a darci un po' di feedback su questo poi la scuola italiana è molto forte la scuola di infanzia italiana sulla parte di motricità fine però quello che notiamo anche noi è che purtroppo c'è poco quindi non so se Katria e Ivana e Miranda vogliono aggiungere intanto vediamo in chat se qualcuno ci dà dei feedback no no mi sembra importante quello che tu hai hai sottolineato che fa capire ancora una volta come al di là delle STEM o STEAM ci vuole proprio una coesione tra quello che si fa e quello che si pensa tra il digitale e il reale proprio perché non si vive nel virtuale ma quello è uno strumento per io avevo visto una cosa per capire il coding che condivido con voi era c'è la necessità di tutti i passi nel coding devono essere perfetti se no il code non funziona e questo però questo è il livello di digitale e per capire questo cioè proprio che non c'entra niente era un bellissimo video su YouTube di un padre con due figli che gli dice che devono scrivere come preparare un panino con la crema di arachidi all'americano peanut butter con la marmellata e praticamente gli vanno via e cominciano a scrivere prendi un pezzo di pane prendi il coltello prendi cose spalma su un lato e lui letteralmente spalma su un lato quindi un lato qualsiasi prende il coltello da qualsiasi parte cioè i comandi le istruzioni erano completamente non erano completi erano sbagliatissime a livello di coding perché per i coding deve essere perfetto preciso ogni passo quindi dovevano tornare tutte le volte in modo che lui alla fine diventavano matti perché non riuscivano a fargli capire come preparare questo pannino però era bellissimo perché ti fa capire come uno un po' quello che si diceva prima della comunicazione cioè quando vuoi spiegare una cosa lo devi dire in maniera perfetta in modo che gli altri capiscono e di solito è molto di solito in modo più facile più diretto le complicazioni proprio anche le parole grandi di solito impediscono la comprensione invece il coding è proprio questo per cui si collega un po' tutto questo comunicare bene essere precisi e sono i primi passi per una cosa che poi ovviamente può diventare molto complicato da grandi cioè il coding digitale però è molto bello questa cosa per i bambini di imparare come spiegare bene le cose tutti i passi i giochi fisici quando devono saltare imparano a fare coding saltando due passi avanti via destra sinistra cioè è molto bello con il corpo facendo questo e sono tutti i modi per arrivare in cima alla montagna strade diverse insomma bello è vero abbiamo Noemi che ci scrive anche il fatto di poter costruire i personaggi della scacchiera coding anche dentro a Rotary per Sostenibilità ci sono dei percorsi dove noi abbiamo fatto fare le griglie simili e Noemi dice potremmo fare la scacchiera coding con i Geomag e potrebbe essere un esempio con i Magic Cube potrebbe essere molto interessante è vero interessante sì è vero invece Paola qua rispondo io a Paola Paola scrive il problema maggiore è la mancanza di risorse finanziarie per queste nuove tecnologie almeno alla scuola dell'infanzia su questo Paola seguite tutti i bandi i PON che il ministero sta facendo uscire che usciranno sono già usciti c'è stato un bando STEM enorme e tutte le scuole sono state finanziate dopo una prima ondata dove il primo 50% fu finanziato poi il ministero di istruzione ha dato a tutti e stanno arrivando in questo periodo le lettere per tutti o sono già arrivate comunque le lettere per l'autorizzazione alla spesa e quindi in verità purtroppo non arrivano a cascata purtroppo meno male su questo non voglio entrare nelle metodologie di finanziamento della scuola però c'è possibilità di cercare ovviamente negli istituti comprensivi che hanno la scuola dell'infanzia spesso può capitare che la scuola dell'infanzia venga interpellata poco nelle voci di spesa e questo è vero quindi c'è di nuovo un problema un po' di società è ovvio il ministero il grande cappello poi arrivano le possibilità di fondi e poi magari si pensa di più alla scuola primaria o una scuola secondaria di primo grado all'interno di un'IC e questo quello che credo per l'esperienza che ho io lavorando con tanti insegnanti in giro per l'Italia è fatevi sentire perché perché se iniziamo prima come diceva Mirella come diceva Katrine e Ivana è meglio e quindi è bene investire fin da subito in tecnologie in strumenti che ovviamente hanno un costo è giusto che sia così non possono essere gratuite anche se poi nella parte tangibile è giusto che ci sia un costo nella parte digitale spesso riusciamo anche a usare strumenti che hanno il costo del device che le fa girare che sia il tablet o il computer però che poi sono free penso a Scrae Junior con cui abbiamo iniziato questo percorso di primi passi alla sostenibilità e scusate ho monopolizzato volete dire qualcosa se no poi c'è Cecilia che ci scrive quindi posso andare a leggere sì leggi che poi io rispondo ok coding unplugged e storytelling per la scuola dell'infanzia all'interno di reticolati disegnati a pavimento i nostri bambini si divertono tantissimo tra loro con questa modalità coinvolgendo anche i più piccoli gli errori vengono corretti insieme Mirella vai tu sì perché proprio partendo dal coding unplugged e dallo storytelling abbiamo fatto delle attività all'interno della community per l'infanzia il cui termine era sul riciclo quindi su mettere la cosa giusta nel suo contenitore e tante altre cose in cui abbiamo coniugato un po' sia la motricità dei bambini ma proprio col reticolato per terra dando tutte le istruzioni ma vedremo magari ecco certo oramai le attività sono state fatte e quindi oramai l'unica attività che rimane per questo bimestre è la partecipazione al concorso call to action per la sostenibilità 2022 ma sicuramente magari qualche attività che su questo tipo che abbiamo già fatto magari possiamo ripubblicarla in modo da offrire anche a chi non ha partecipato all'interno della community qualche stimolo per poter fare d'altra parte anche scuola di lobotica con early coding mi sembra esatto sì sì dei percorsi gratuiti scaricabili quindi ecco nel finanziamento mi sono scordato di dirvi che partecipando alla call to action di Rotary per sostenibilità e se avete partecipato c'era la possibilità di vincere anche dei premi Geomag e quindi grazie alla sinergia fra Rotary e Geomag c'è stata questa possibilità quindi i finanziamenti poi possono arrivare anche per vie strane attraverso la partecipazione e quindi questo teniamolo sempre da conto e cerchiamo di farlo capire anche ai nostri e alle bambine e ai bambini cioè se partecipiamo qualcosa smuoviamo qualcosa succede è vero ogni tanto ci sembra di parlare nel vuoto ma non è neanche così tanto vero quando parliamo ci muoviamo e aggiamo un qualcosa accade e se siamo bravi accade in maniera positiva stavo controllando se abbiamo risposto a tutti quindi non so se Katrin, Ivana e Miranda volete aggiungere ancora qualcos'altro poi noi abbiamo una parte sulla certificazione delle ore sulla call to action ma che lascerai in coda perché la parte istituzionale magari possiamo Katrin tu ti ricordi quanto dura il video dei 17 eroi dura un quarto d'ora meno forse dieci minuti Ivana forse lo possiamo far vedere come volete adesso io non ce l'ho al volo però io non ce l'ho sotto mano purtroppo che non avevo preparato se lo trovate mi potete mandare il link magari possiamo vedere dei piccoli pezzi e commentarli perché sicuramente praticamente quello che abbiamo fatto noi abbiamo tre scatole di storytelling uno che appunto è i tre porcellini poi abbiamo la Giacomino e il fagiolo magico e poi abbiamo uno con dieci filastrofi inglesi e quindi sono un sacco di personaggi praticamente abbiamo mischiato tutto tutte le scatole e cioè dato un ruolo perché sono tutti animali no c'è anche l'agricoltore ci sono vabbè sono diventati personaggi in questa fiaba ambientato non in una foresta abbiamo fatto anche un'altra che era un pranzo di Natale era sull'inclusione anche questo inclusività di sì di accettare persone diverse eccetera e questo era un altro che avevamo fatto con la stessa modalità di prendere queste storie e mischiare i personaggi ti ho mandato il link Ema ti ho mandato via mail no via whatsapp ok allora mi arriverà sono su whatsapp scusate no scusa non ti ho ah no no è arrivato ok allora un attimo che provo ad andarlo a prendere vediamo un attimo allora ci sono quasi perché così se lo mando su youtube riusciamo a mandarlo in onda ecco qua ditemi fra poco lo mando in onda allora schermo per clip video ok ora dovreste poterlo vedere eccolo qua io lo posso andare e lasciare col sonoro poi se volete mi dite se mi devo fermare o no Jack Jill e John John era stato adottato ma lo amavano così tanto che lui non ha percepito di essere diverso dai suoi fratelli gol 10 geni si era un po' stufata della vita da contadina e lei frullava in testa il pensiero di aprire un'azienda tutta sua in fondo perché no era in gamba intelligente e determinata gol gol 5 ma geni aveva un sogno troppo grande difficilissimo forse impossibile da realizzare ma lei non si arrende mai geni sognava un mondo pulito pieno di persone felici in cui tutti si aiutano tra loro gol 15 magari grazie alla sua azienda avrebbe potuto coronare questo sogno allora decise di vendere la sua fattoria e di andare a vivere nella foresta grazie all'incasso prodotto dalla vendita della sua fattoria geni aveva qualche soldino per iniziare a fondare la sua azienda chiese aiuto ad alcuni suoi amici per iniziare a costruire le fondamenta gol 9 non aveva moltissimi amici in quella foresta ma conosceva alcuni clienti che avevano comprato dei prodotti della sua fattoria aveva chiamato i fratelli lupi i tre porcellini Humpty Dumpty e l'orca i lupi continuavano a fare scherzi ai porcellini ma in fondo si volevano bene grazie alla collaborazione di tutti in una settimana l'azienda era in piedi non restava che cercare personale Jack Jill e John erano gli incaricati alla selezione del personale in realtà non avevano selezionato molto avevano assunto tutti quelli che si erano presentati l'azienda adesso contava 17 dipendenti anzi più che dipendenti tutti vollero investire in questa nuova avventura e proposero di diventare soci Jenny accettò con molto entusiasmo gol 16 ma non abbiamo ancora parlato del sogno di Jenny lei infatti aveva immaginato un macchinario che trasformasse l'immondizia in cibo in questo modo avrebbe potuto aiutare tutti gli abitanti della foresta e assieme avrebbero sconfitto la fame gol 2 ma per costruire questo macchinario aveva bisogno di un esperto i porcellini avevano molte conoscenze nella foresta e conoscevano un famoso ingegnere un genio del suo lavoro il signor capra Jenny lo chiamò nella sua azienda e lui si mostrò molto disponibile a costruire questo macchinario in pochi giorni non ne costruì soltanto uno ma ben cinque inoltre aveva trasformato tutti gli impianti ad energia solare gol 7 adesso la produzione era pronta a partire in azienda ognuno aveva il suo ruolo Jack Jill e John si occupavano dell'ufficio acquisti i cavalli si occupavano degli spostamenti della merce i fratelli lupi facevano i magazzinieri i fratelli soldati il controllo qualità i porcellini e Giacomino si erano specializzati sull'utilizzo dei macchinari Humpty Dumpty era l'elettricista dell'azienda il signor capra era il responsabile della produzione e le due coppie orchi e contadini si occupavano della preparazione del prodotto finito cioè il cibo gol 8 erano tutti felici in azienda finalmente tutti potevano rendersi utili e guadagnare abbastanza da poter vivere in serenità gol 1 l'azienda organizzava anche corsi per i figli dei dipendenti soci in modo che tutti i bambini e le bambine potessero avere un'educazione di qualità gol 4 grazie alle lezioni online di reddog.com i bambini imparavano a contare e fare le prime operazioni giocando con gli esercizi interattivi e le schede da scaricare imparavano moltissime cose e non solo a leggere e a scrivere e a far di conto i bambini infatti imparavano anche a rispettare la foresta e a risparmiare le risorse gol 13 infatti grazie alle spiegazioni sugli ecosistemi e sull'ecologia i bambini capivano l'importanza di rispettare l'ambiente per sconfiggere il cambiamento climatico e preservare gli organismi dell'ecosistema come ad esempio le piante e gli animali inoltre scoprirono che l'acqua è un bene prezioso e deve essere preservata per far sì che tutti possono accedervi gol 6 inoltre avevano l'opportunità di conoscere anche altri ambienti naturali diversi dalla foresta come per esempio la vita nei mari i figli dei dipendenti erano entusiasti di tutto di quello che imparavano e raccontavano ai loro genitori a tutti gli altri animali della foresta quello che avevano imparato cosa sono gli anfibi quanti tipi di pesce esistono gol 14 geni era molto contenta il signor capra aveva addirittura fatto in modo che i macchinari non producessero inquinamento gol 12 ora la foresta non era solo pulita ma anche autosostenibile gol 11 ma successe qualcosa che turbò la serenità della foresta purtroppo i cavalli che erano responsabili del trasporto e della consegna dei prodotti si accorsero che il loro carico alcuni giorni era più leggero del solito non sapevano cosa fosse successo e non volevano incolpare nessuno quindi andarono a parlare con Jenny che convocò tutti i lavoratori per capire se ci fosse un problema ci fu una cosa che notarono tutti fu che l'orco continuava ad ingrassare giorno per giorno era ingrassato talmente tanto che faceva fatica a camminare gol 3 Jenny lo convocò nel suo ufficio e parlò con lui facendogli capire che tutto quel cibo non era soltanto nocivo per la sua salute ma era anche la causa per cui alcune famiglie ricevevano meno cibo rispetto al necessario l'orco capì era molto pentito e decise che da quel giorno non solo si sarebbe rimesso in forma ma che avrebbe ceduto un po' di quel cibo alla famiglia a cui l'aveva tolto nelle settimane precedenti tutti ovviamente lo perdonarono e non solo lo ringraziarono anche per il suo lavoro e per il suo aiuto nell'azienda a mantenere la foresta pulita e sostenibile la vita nella foresta andò avanti in serenità e felicità gol 17 ecco grazie abbiamo sentito la voce di Katrine e abbiamo ecco questa favola è visibile e con anche tutte sul sito anche di Redoc ed è si può accedere gratuitamente e c'è un questionario anche proprio sui 17 sui 17 gol però offre anche lo spunto proprio per creare degli storytelling partendo anche da alcuni gol e mettendosi proprio in gioco i bambini o i ragazzi su alcuni aspetti che coinvolgono poi la quotidianità di ciascuno parlava prima l'orco che aveva consumato troppo e quindi aveva tolto cibo agli altri e quindi anche lì la salute la corretta alimentazione lo spreco ci sono tanti modi in cui anche i bambini possono recuperare delle cose che vivono piuttosto che di cui sentono parlare o altro e attraverso la drammatizzazione proprio riuscire a diventare più responsabili e più consapevoli coinvolgendo anche gli altri cioè idee ne vengono ne vengono tante è vero non so se Katrine e Ivana vogliono aggiungere qualcosa questo video è sempre molto carino quando si vedono tutti i personaggi vicini e intanto Monica ci chiede se c'è la registrazione vi daremo il link a YouTube dove l'abbiamo preso tutto come sempre come sempre no questo sì questo era giusto sì un bel progetto che avevo fatto con appunto con Redoc con lo storytelling appunto come hai detto tu Mirella un po' per illustrare come insomma di prendere quello che hai che penso che i vostri insegnanti già hanno dimostrato la capacità e creatività di anche cambiare cioè queste erano storie già fatte che poi noi abbiamo cambiato personaggi che è è una delle cose che anche nel libretto che abbiamo non è tanto qua ovviamente era un cambiamento totale della storia ma anche la fine di una storia è molto bello per loro di immaginare una fine diverso che questo è bello perché ho visto che alcuni bambini non tutti hanno un po' paura di inventare storie perché non è facile però quando cominci con una storia poi da lì hanno meno paura e magari continuano per cui anche con questi personaggi che ci sono già e poi dopo vanno avanti loro e le aiuta con la creatività sicuramente sicuramente allora noi magari possiamo un po' partire proprio da questa idea dello storytelling dell'attenzione alla alla vita quotidiana di tutti i giorni per approfondire un attimo la richiesta che abbiamo con il concorso Call to Exxon per la sostenibilità perché chiediamo proprio di partire di far osservare i bambini anche i ragazzi le situazioni che sono a loro vicini che può essere banalmente il giardino non mantenuto bene piuttosto che anche qualcosa legata proprio alla relazione con i compagni oppure nel quartiere partire proprio da un fatto legato a loro e documentarlo capire perché a loro non piace perché lo vorrebbero diverso e trovare una soluzione ma anche lì quello che spingiamo è di non trovare una soluzione così ma di confrontarsi sulle soluzioni possibili e di trovare quella che è naturalmente più adatta e soprattutto che è più fattibile perché a volte noi immaginiamo grandi cose che poi non sono realizzabili però quello di poter lavorare sulla realtà e quindi sulla fattibilità credo che sia abbastanza importante e come diceva Emanuele prima i premi che abbiamo messo in paglio sono sia qui abbiamo la scuola dell'impaggia il Magic Cube con lo Story Building anche la Math Building e World Building quindi e diamo tre premi a pari a pari merito avendo individuato un premio per la fattibilità uno per la comunicazione efficace e un'altra per la creatività per l'originalità e per la scuola primaria invece il 7 Geometry Lab Medium che avete visto già diciamo in pratica se volete parlare con gli altri colleghi degli istituti comprensivi o altri abbiamo anche il MecBlock per quelli della scuola secondaria di primo grado quindi abbiamo cercato di trovare qualcosa che potesse sicuramente inserirsi nella didattica ma anche attraverso il gioco e anche attraverso l'innovazione avete tempo fino al 30 aprile esatto intanto ho messo il link al regolamento dovete entrare nella community è molto facile è tutto gratuito e trovate questo e tanti altri materiali per riuscire a capire come lavorare con i bambini è vero che ci sono le vacanze di Pasqua ma con la prossima settimana che probabilmente è a metà per la scuola e con quella successiva secondo me si riescono a fare dei lavori anche in pochi giorni ma io racconto di un concorso di tantissimi tantissimi anni fa fatto da un gestore di energia elettrica ma vi parlo di più di dieci anni fa che voleva far conoscere le centrali alla popolazione e in particolar modo a quelli che stavano vicino alle centrali e quindi aveva lanciato un concorso per capire come si potevano migliorare utilizzare che senso potevano avere le centrali all'interno diciamo della società della comunità c'è stata una scuola elementare che ha fatto una scuola primaria che ha una cosa semplicissima su un foglio di carta e tutto l'idea era stata quella di piantare un campo di camomilla che fosse coltivato da un'associazione in cui c'erano delle persone diversamente abili avevano trovato anche l'associazione e quindi questo ha vinto cioè perché è stato poi erano piccoli però hanno trovato qualcosa di innanzitutto molto sentito hanno collegato attorno alla centrale qualcosa di bello un campo di camomilla e hanno trovato anche l'attenzione all'inclusione questo per dirvi che a volte non ci vogliono grandi grandi pensieri ma soffermarsi su quello che ci sta attorno e quindi buon lavoro esatto non so se Catrini e Ivana vogliono aggiungere qualcos'altro poi noi abbiamo la parte di certificare un attimino un attimo prima non cambia non cambia niente lasciamo preparare la cena con più tranquillità per noi abbiamo detto insomma le cose che volevamo condividere con voi che ovviamente ci fa sempre molto piacere passare questi momenti insieme anche per noi è sempre un piacere sempre idee che vengono arrivano e su cui poter lavorare con tutti i docenti collegati Mirella ti lascio la parola poi io terrò tre minuti sulla certificazione perché siamo a fine percorso così do un po' di risposte che so che ogni tanto poi ci vengono fatte delle richieste a questo punto ringraziando tutte e tutti per la partecipazione e vi aspettiamo nella community nella call disponibilissimi scriveteci se avete bisogno di qualche altro approfondimento altro ma quando pubblicheremo la registrazione di questo webinar metterò il link a quello precedente e magari anche a qualche attività di coding unplugged che abbiamo già dato in modo da farvi stimolare per questi ultimi giorni di scuola a te la parola allora parte di certificazione siamo giunti alla fine del percorso formativo che era composto da tanti incontri molto diversi uno dall'altro ma tutti con il tema della sostenibilità e il tema dell'educazione e della formazione se volete ottenere il certificato riconosciuto dal ministero dell'istruzione dovrete iscrivervi lo potete fare anche adesso magari era la prima volta perché avete avuto il link da un collega non ci sono problemi ci sono scadenze vere e proprie il corso è sulla nostra piattaforma di e-learning di scuola di robotica punto it lo trovate andando sul percorso dedicato ai piccoli passi per la sostenibilità all'interno dei corsi gratuiti e lì registrandovi entrando dentro avrete tutte le lezioni e poi da lunedì verranno pubblicati i questionari riuscendo a superare i questionari e guardando tutte le lezioni potrete accedere alla certificazione del ministero dell'istruzione fatta da scuola di robotica che è un ente formatore se invece non avete interesse non volete fare tutto il percorso con il questionario cose simili ma vi serve l'attestato di presenza quindi non una certificazione che sono ovviamente due cose diverse l'attestato di presenza vi arriva in maniera automatica lunedì in base ai minuti che avete partecipato quindi se avete superato i tre quarti della durata oggi sarà più o meno di un'ora e mezza e quindi avrete superato più dell'ora adesso fai conti il sistema in automatico quindi non fate di fare a me in automatico dopo che un nostro collega Federico che oggi abbiamo lasciato riposare che è il nostro regista solitamente di queste occasioni Federico darà l'ok e verrà inviato fra l'altro un attestato di presenza della puntata dell'episodio della lezione di oggi quindi speriamo di soddisfare tutte le richieste quindi gli insegnanti che mettevano il loro nome e cognome come se fosse una firma sappiate che noi siamo robotici quindi è tutto automatizzato non facciamo nulla non prendiamo le presenze perché lo fa il sistema in automatico ci sono delle domande Emanuele ci sono delle domande il questionario si può fare più di una volta mi sembra fino a 5 tentativi e si supera col 70% poi bisogna iscriversi al concorso call to action oppure facendo già parte con la squadra della comunità si è già inclusi si è già inclusi perché siete iscritti alla community naturalmente poi nell'attività bisogna mettere il progetto del concorso ci arriverà una mail con tutte le informazioni e le registrazioni? questa è una domanda difficile Francesca non la capisco nel senso che tutte le registrazioni sono sia sul sito di Rotary per la sostenibilità e vengono pubblicate mediamente qualche giorno dopo quindi lunedì o martedì troverete il video di questa lezione se invece e con tutte le informazioni basta andare su Rotary per la sostenibilità senza l'accento sulla A perché internet non ce lo permette punto it mentre se volete partecipare al corso per la certificazione dovete andare sulla piattaforma di scuola di robotica qua vi sto facendo vedere ora è il corso come coniugare cittadinanza e sostenibilità ma è la stessa cosa e lì trovate già tutto quindi due modalità una uno vuole per cultura personale guardare su Rotary per sostenibilità trova tutto se invece volete la certificazione noi abbiamo la piattaforma che vede la presenza vede che accedete alla registrazione che la guardate non è l'occhio del grande fratello ma ci serve per ovviamente dare serietà a questo percorso e poi il questionario 5 tentativi 70% di risposte superate e vi arriva in automatico vi potete anche iscrivere su Sofia e poi dovete dopo esservi iscriviti iscritti su Sofia andare sul sito di scuola robotica e mettere il codice ma quello nel caso ci scrivete una mail e poi vi viene data risposta o anche delle domande Cecilia ci chiede per il concorso c'è scritto indirizzo scuola mail eccetera intendete l'istituto comprensivo complesso lascia la parola Mirella su questo allora è sempre un problema questo qua dei comprensivi eccetera però potete mettere l'istituto comprensivo però se siete una scuola primaria scrivete scuola primaria e poi l'appartenenza dell'istituto comprensivo e poi sempre Cecilia un'altra domanda questa è risposta dal vivo quindi la elimino l'attestato conclusivo dopo il superamento del questionario come ci verrà consegnato per mail verrà in automatico dal sito iscriviti robotica vi viene spedito l'attestato col questionario se poi vi siete anche iscritti su sofia cosa succede vi chiediamo di avvertirci che avete superato il corso così noi andiamo su sofia se siete iscritti anche lì purtroppo questo non è robotico c'è la nostra ilaria che va sul sito del ministero e controlla che il certificato coincida col nome e poi dà l'ok ad oggi non siamo riusciti ad automatizzare quella parte perfetto direi che abbiamo risposto a tutte le domande e quindi iscrivetevi alla community e alla call to action per entrare alla call to action dovete iscrivervi alla community quindi basta andare ve lo rimetto qua su roteri per la sostenibilità e punto it da lì potete entrare nella community e compilare tutti i campi e iscrivervi Mirella abbiamo detto tutta la parte istituzionale ecco e Cecilia ok ci ha dato l'ok e Paola ci ringrazia per questo interessante corso siamo contenti e Mirella ti lascio la voce per i saluti io saluterei ringraziando tutte e tutti ringraziando anche Geomag con Katrin e Ivana che ci hanno presentato in maniera creativa e stem diciamo come poter utilizzare questi questi cubi poi sarà la fantasia e la creatività di tutti voi a aggiungere anche altre cose a quelle che abbiamo detto che vi suggerisce quindi arrivederci a tutti e speriamo di incontrarvi nella call to action anche perché ci sarà poi una premiazione in cui inviteremo tutte le classi che hanno partecipato quindi sarà anche quello diciamo un bel momento per stare insieme l'anno scorso l'abbiamo fatto e ci siamo divertiti un sacco con centinaia di bambini collegati e quindi quest'anno stiamo anche pensando a un mini concorso durante la cerimonia di premiazione quindi stiamo elaborando un piano diverso aggiuntivo per rendere ancora più avvincente il fatto di partecipare anche se magari non si è vinto e quindi siamo creativi anche noi alla fine ci proviamo ci proviamo grazie bene allora chiudi tu chiudo io sì e grazie di nuovo grazie ancora a tutti grazie sì grazie anche a voi ciao a tutti buona serata ciao a tutti ciao grazie grazie un abbraccio termino ciao ciao